Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, 19 giorni di conflitto in Ucraina, 19 giorni di tragedia, di sofferenze, di guerra, permettetemi ancora una volta di esprimere la profonda vicinanza del nostro gruppo al coraggioso popolo ucraino che sta dimostrando una volontà senza precedenti alla comunità ucraina che vive in Italia, ai nostri connazionali che vivono in Ucraina, all'ambasciatore Zazio, a tutto il personale della nostra ambasciata e della Farnesina, nonché alle nostre forze armate a cui va tutta la nostra riconoscenza. Onore poi a Bren Renault, ucciso ieri a Irpin mentre documentava la guerra per il New York Times. E onore a tutti i giornalisti, agli inviati di guerra di tutte le nazioni e ovviamente anche agli inviati di guerra italiani e della RAI e ai tecnici, spesso esterni, che sono sul campo, a cui chiediamo di lasciare, anche di riconoscere i crediti sui servizi perché come gli inviati di guerra e come giornalisti giustamente rischiano la vita e quelle immagini sono registrate in diretta e dietro quelle immagini ci sono persone in carne e ossa che meritano rispetto, come ha chiesto anche l'associazione di categoria ASA. Ma a che punto è la guerra, colleghi? Mentre parliamo, una base NATO al confine con la Polonia è stata colpita dai russi aumentando il rischio di un'escalation verso un conflitto globale. La guerra corre veloce, su più fronti, l'incendio si sta propagando, le situazioni di crisi si moltiplicano. I segnali sono vivissimi, ma ancora pochi sembrano consapevoli di quello che sta accadendo. Molti saranno colti di sorpresa in uno scenario che invece si sta dispiegando con eccezionale rapidità verso un'economia di guerra. Il conflitto non è solo quello che vediamo nelle immagini che arrivano dall'Ucraina. È un fenomeno ampio e capillare che si propaga come un fiume che si gonfia e rischia di rompere gli argini. Giorno dopo giorno stiamo entrando in una dimensione di belligeranza permanente. Quando il tuono delle armi si placherà, saremo di fronte, colleghi, ad un nuovo quadro della sicurezza e della vita in Europa e nel mondo, ad un nuovo ordine mondiale. Kiev è sotto assedio, più della metà della popolazione ha lasciato la capitale. A Mariupol continuano i bombardamenti e il segnale del collasso, risse, saccheggi per cibo e carburante. Kiev è assediata su tre fronti. I tank russi non sono ancora entrati nel cuore della città, sono state scavate trincee. Il sindaco ha detto che la città è una fortezza. I rifugiati saranno e sono milioni già. Sotto le bombe, di fronte alla violenta lacerazione dell'ordine internazionale e alla chiara violazione del diritto, i distinguo ovviamente sono impossibili. I tentennamenti non sono permessi. Noi siamo con i patrioti ucraini, con le donne che combattono nelle strade, con le ragazze e ragazzi che imbracciano un fucile per difendere i confini. Kiev è il simbolo della libertà. Non c'è spazio per alcuna ambiguità. Ciò che è accaduto in Ucraina non è giustificabile. E schierarsi dalla sua parte vuol dire schierarsi a difesa della nostra libertà. Perché se cediamo oggi, colleghi, domani l'imperialismo russo colpirà altri Stati europei. La gloriosa lotta del popolo ucraino ha una visione ancestrale, vedete, filosofica dell'esistenza e della difesa della terra dei padri. Ernest Junger la definiva come l'inviolabilità del domicilio. Il primo confine si fonda sul padre di famiglia che si piazza sulla soglia di casa con la scura in mano. Accanto i suoi figli, pronto a combattere e a difendere la sua casa. Ed è quello che sta accadendo strada per strada in Ucraina. È chiaro, infatti, che proprio da aver assistito a tante debolezze occidentali, dal vergognoso ritiro delle truppe in Afghanistan voluto da Biden alla fallimentare gestione del Covid, la Russia abbia deciso di cogliere l'occasione per attuare un colpo di mano. Blitzkrieg qualcuno lo avrebbe chiamato, ma in realtà non si sta rivelando tale e lo vediamo giorno dopo giorno come anche l'esercito russo si affatichi, si impantani, non abbia la logistica, chiede aiuto a forze straniere. Colleghi, questo provvedimento in esame rappresenta la trasposizione dell'atto di indirizzo, probabilmente il più importante della storia della dodiciottesima legislatura che questo Parlamento ha votato. In questo momento la nazione, anche grazie a quello che ci riporta Giorgia Meloni, unica forza di opposizione in Parlamento, ha manifestato un'unità di intenti che non si era mai vista. Una piena unità di intenti su cosa potesse fare per soccorrere l'Ucraina e anche per meglio difendere l'Europa, la nostra libertà e il nostro futuro e l'Alleanza Atlantica. Noi lo abbiamo detto sin dall'inizio, si vis pacem parabellum. La cessione di equipaggiamento militare all'Ucraina è necessaria, ma lo si deve fare con la dovuta trasparenza e attenzione, come abbiamo chiesto sia in Commissione che qui in Aula con i colleghi della Commissione Difesa ed Esteri. Va posto un tema. L'ingiustificata aggressione russa è dovuta soprattutto dalla mancata proiezione geopolitica e militare dell'Europa in questi anni e aggiungerei in questi decenni. Per questo è necessario uno strumento militare europeo complementare alla Nato e inserito nel quadro di Alleanza Occidentale, a difesa dell'Occidente. Ora però va garantita la necessità per la comunità internazionale di continuare a lavorare in modo compatto per scongiurare un'estensione del conflitto e arrivare quanto prima alla cessazione delle ostilità. E non lo diciamo per esaltazione di un pacifismo di maniera che non ci ha mai visto scendere in strada dietro quelle bandiere. Noi lo diciamo perché crediamo che la pace, la ricchezza, l'economia si difendano con la deterrenza anche militare. Un tema immerso anche questo dal vertice di Versailles, altro appuntamento storico. Chissà chi avrebbe mai immaginato di trovarci di fronte a un altro summit internazionale a Versailles. Di cui ha parlato persino il Presidente Mattarella e che spesso viene indicato anche da Giampiero Massolo dell'ISPI o da Terzi di Sant'Aga, da già ottimo Ministro degli Esteri. Siamo in un contesto geopolitico multipolare, in continua evoluzione. L'Europa deve innovarsi e dotarsi di un nuovo modello di sicurezza integrata, investendo risorse, dispiegando forze ed armamenti convenzionali e nucleari per garantire pace e libertà ai propri cittadini. I 27 Paesi appartenenti all'Unione Europea sarebbero in grado così di disporre di circa 1.200.000 uomini appartenenti alle forze armate. Per fare un paragone, colleghi, gli Stati Uniti ne schierano 1.400.000, la Cina 2.185.000, ovviamente in proporzione agli abitanti, la Russia 1.014.000. Per quanto riguarda le forze aeree, l'UE avrebbe a disposizione 2.012 caccia o bombardieri da difesa aerea e attacco, insieme a circa 609 velivoli da trasporto di tutte le dimensioni. Gli USA ne hanno rispettivamente 2.717.845. 1.545, la Russia 1.531.429, la Cina 1.571.264. Sempre parlando di assetti aerei, l'UE potrebbe schierare circa 42 delle fondamentali aerocisterne. Dal punto di vista delle spese per l'apparato militare, l'Unione Europea, nel suo complesso, versa circa 185 miliardi di dollari ogni anno in confronto ai 740 degli Stati Uniti, ai 178 della Cina e ai 42 miliardi della Russia. La presenza di un dispositivo militare europeo congiunto avrebbe quindi garantito la difesa dei confini orientali e anche della NATO, in un meccanismo di deterrenza evidente con la Russia. Ora, come indicato anche da Giorgia Meloni al Presidente Mattarella, va garantita però la necessità per la comunità internazionale di continuare a lavorare in modo compatto per scongiurare appunto l'estensione del conflitto e arrivare quanto prima alla cessazione delle ostilità. Le iniziative di solidarietà del popolo italiano verso l'Ucraina sono state molteplici e di grande generosità. Come la raccolta che anche Fratelli d'Italia sta facendo a livello nazionale in ogni città a Roma con la campagna Chi chiama Roma risponde raccogliendo più di 35 tonnellate di derrate alimentari e chiedendo e ottenendo ai propri iscritti e simpatizzanti di aprire le case ai rifugiati ucraini rispondendo anche all'appello della Caritas per ospitare donne e bambini. Vedete, la politica estera però non è solo geopolitica. Ci sono persone, nazioni, popoli in carne e ossa che dovrebbero avere nel mondo nuovo costruito dai nostri padri il diritto pacifico di scegliersi governi e alleanze internazionali. La guerra avrà ricadute anche nazionali. C'è un aspetto di sicurezza sia materiale che immateriale. Le sanzioni proderranno e stanno già producendo un impatto economico bionivoco fra noi e i russi. Alcune filiere già denunciano una situazione di gravissima sofferenza al punto che le relative imprese rischiano di dover molto presto cessare l'attività. Molte altre lo hanno già fatto. L'Italia importa dalla Russia soprattutto prodotti minerari, petroliferi e metallurgia ad esempio come ferro, ghisa e acciaio. Vi esporta principalmente macchinari, abbigliamento, apparecchi elettronici e prodotti chimico-farmaceutici. Le sanzioni bloccano l'esportazione a uso duale sia civile che militare di alcuni prodotti per la prospezione petrolifera e la raffinazione del greggio. L'export italiana verso la Russia vale circa 8 miliardi di euro. Si stima che i beni colpiti direttamente dalle sanzioni ammontino a 320 milioni. Dal lato dell'import, le filiere italiane più colpite sono quelle della ceramica e della siderurgia che stanno riscontrando difficoltà di approvvigionamento di argilla e materiali ferrosi. Ci sono problemi anche per le forniture di rame che insieme all'alluminio vale il 3,2% del valore totale delle importazioni dalla Russia. Chiediamo quindi un fondo perequativo per assistere le nostre aziende. Vedete poi l'altro tema fondamentale citato anche dai colleghi. La sicurezza energetica e il caro benzina sono aspetti che gravano sull'ecosistema economico aziendale e nazionale. Facciamo chiarezza su questo. I prezzi del greggio si sono avvicinati ai 140 dollari al barile. I prezzi del grano sono abbalzati e i metalli industriali sono aumentati. Lunedì, mentre la guerra in Ucraina e la risposta dell'Occidente hanno minacciato di colpire le forniture di materie prime che sostengono gran parte dell'economia mondiale. L'impennata si basa su settimane di guadagni per le materie prime e si aggiunge alle pressioni inflazionistiche che stanno attraversando l'economia mondiale. I futures del greggio Brent e il punto di riferimento internazionale sono abbalzati dal 5,1% a 124,11 dollari al barile e prima hanno colpito 139,13 dollari al barile. Il loro livello più alto da quando il boom dell'economia cinese ha sollevato i mercati delle materie prime nel 2008. Pensate che riferimento storico. Il marker statunitense West Texas Intermediate ha scambiato il 3,4% più in alto a 119,61 dollari al barile. Prima della guerra le esportazioni russe di greggio e prodotti raffinati hanno soddisfatto circa il 7,5% della domanda mondiale di petrolio. Ma dopo che il presidente Putin ha invaso l'Ucraina alla fine di febbraio molti raffinatori hanno messo in pausa le importazioni. Hanno lottato per trovare finanziamenti e petroliere per i carichi di petrolio russo e temevano danni alla reputazione così come sanzioni sul greggio. Le scorte di petrolio si stavano esaurendo prima dello scoppio della guerra poiché la domanda si è ripresa dai minimi pandemici. A dicembre le scorte commerciali di petrolio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico erano 2,68 miliardi di barili secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia il loro livello più basso in sette anni. Un conto però è l'andamento della materia prima altro conto colleghi è l'andamento dei singoli prodotti finiti che hanno ciascuno loro mercati specifici con dinamiche spesso chiaramente distinte. A rendere ancora più complesso il nesso vi è poi la finanziarizzazione internazionale dei mercati energetici che amplifica esponenzialmente anche condotte speculative come quelle in atto in questo momento e lo ha riconosciuto anche il Governo. Va detto quindi per riprendere e estrarre di più bisogna investire sapendo che non si raddoppia o triplica la produzione nel giro di qualche mese senza dimenticare che sfruttare alcuni giacimenti quelli davanti a Venezia comporta alcuni rischi ad ogni modo non c'è colleghi solo capacità estrattiva in Italia non abbiamo nemmeno espanso i siti per lo stoccaggio del gas se avessimo maggiore capacità di immagazzinamento avremmo potuto affrontare con più serenità le possibili ritorsioni russe a fronte di queste sanzioni noi siamo con i consumatori siamo e lo abbiamo chiesto anche dal Presidente Mattarella con Giorgia Meloni per favorire il contenimento del costo dei carburanti e i limiti per quanto possibile alle speculazioni in atto non solo dalla congiuntura internazionale ma anche da comportamenti aggressivi da parte di certi operatori di mercato noi puntiamo a recuperare in modo strutturale da un lato il meccanismo dell'accisa mobile sulla falsa riga di quanto avviene da anni in Slovenia o da alcuni giorni in alcuni paesi europei come l'Irlanda che hanno immediatamente ridotto le accise anche di 20 centesimi e con esse il carico IVA per compensare i forti aumenti e dall'altro un'IVA agevolata ecco trattandosi quindi di una vera e propria tassa di scopo che già esiste chiediamo la massima trasparenza di come tali soldi sono impiegati ed eventualmente utilizzarne i proventi per calmirare il prezzo finale al distributore di carburante raccogliamo quindi gli allarmi delle associazioni di categoria come Assistal o FIEG o Asso Petroli chiediamo al governo di trasferire immediatamente alle imprese le risorse per il sostegno al settore già sanziate e prevedere nuove e significativi interventi sul mercato della carta e dell'energia così da garantire la sopravvivenza del sistema editoriale e di tutto l'ecosistema delle imprese presenteremo in tal senso emendamenti anche al DL Energia perché tutto è collegato è un ecosistema quando la geopolitica è in crisi è in crisi un ecosistema quello economico energetico e finanziario l'informazione di qualità deve essere garantita per salvaguardare un settore rilevante della nostra economia e critico come in questi momenti in cui il pluralismo dell'opinione delle idee i posti di lavoro dai tecnici ai giornalisti devono essere garantiti vedete il Copasir poi aveva già lanciato l'allarme alcuni mesi fa nel secondo semestre del 2021 sul rischio di un'eccessiva dipendenza energetica dell'Italia dalla Russia e sulla necessità di affrancarsi di trovare altre opzioni che rendessero il nostro paese meno fragile da questo punto di vista molto rimasto inascoltato dal Parlamento vedete colleghi a cosa serve il Copasir quando lavora serve a questo a raccogliere gli allarmi dei servizi e trasmetterli tempestivamente al Parlamento abbiamo la necessità di invertire la rutta dell'inquinamento globale ma con la meridiana dell'interesse nazionale quando questo è in crisi e con l'interesse nazionale ovviamente internaviamo anche l'interesse europeo l'Italia e l'Europa si dotino di un piano di sicurezza energetica di un mix energetico che possa garantire l'autonomia e la sicurezza nazionale anche in caso di volatilità geopolitica perché non possiamo più rischiare di essere nel paradosso perfetto come in questi giorni per cui chiediamo di fermare la guerra della Russia e nel frattempo l'alimentiamo ogni giorno con centinaia di milioni di euro per il gas russo ma veniamo alle minacce immateriali la guerra in Ucraina ha messo l'Unione Europea davanti a un cambio di paradigma nell'ambiente digitale l'infrastruttura digitale europea non è mai stata così a rischio di destabilizzazione sempre il presidente del COPASI Radolfo Urso che è il direttore dell'agenzia per la cybersicurezza Baldoni avevano lanciato anche su questo un avviso urgente mettendo in guardia da possibili attacchi informatici contro governo e industrie in particolare aziende sanitarie e ospedaliere in questi giorni va inoltre considerata la presenza massiva di tecnologia russa nei sistemi operativi della nostra pubblica amministrazione un famoso sistema paradossalmente di prevenzione di Trojan e antivirus famigerato che non cito è installato in tutti i sistemi della pubblica amministrazione e probabilmente anche in molti sistemi qui all'interno della Camera bisogna quindi equiparare normativamente gli attacchi cyber ad attacchi terroristici così da dotare lo stato di strumenti più forti contro il dilagare della minaccia virtuale in questo senso riteniamo necessaria una regolamentazione stringente delle criptovalute che in questo scenario di crisi vengono usate per evadere dalle sanzioni agli oligarchi colleghi noi siamo contrari all'aggressione russa ma siamo contrari anche alla russofobia perché riteniamo preziosa la secolare cultura russa e amicizia con il popolo russo che è altra cosa con chi lo governa ci preme sottolineare la preoccupazione per i patrimoni culturali della nazione ucraina come la casa delle chimere o la basilica di santa sofia del 1038 ma questo non toglie che la cultura debba essere libera e la circolazione delle idee di artisti di ogni nazionalità debba continuare a essere garantita nessuno pensi di censurarla non possiamo confonderci con gli autoritarismi e con i dittatori che vogliamo combattere gli autori russi come Dostoevsky come Puskin come Solgenizzi come Gogol sono stati alfieri della libertà contro la schiavitù la corruzione i totalitarismi abbiamo presentato su questa una risoluzione in settima commissione che auspichiamo possa essere unitaria anche essendo disponibili a sintetizzarla con gli altri abbiamo per questo chiesto al governo di attivarsi in sede internazionale per garantire la tutela del patrimonio culturale e artistico dell'Ucraina e alla promozione della cultura ucraina e all'ospitalità degli artisti ucraini e su cui in commissione cultura appunto è emersa concordanza con anche le forze politiche della maggioranza e quindi auspichiamo un testo unico perché alle strazianti immagini delle strade affollate dai profughi si aggiungono quelle dei bombardamenti anche sul patrimonio culturale ucraino e con esso lo spettro di una nuova epurazione culturale a rischio ci sono i siti patrimonio mondiale dell'UNESCO 8 in Ucraina e 17 sotto richiesta la cattedrale di Santa Sofia a Kiev le relative costruzioni monastiche il complesso del centro storico di Leopoli l'antica città di Taurica e la sua Cora Sebastopoli l'arco geodetico di Struv le antiche faggete primordiali dei Carpazzi e di altre regioni d'Europa le uniche di tipo naturalistico la residenza dei metropoliti bucovini dei Dalmati l'intero centro storico di Odessa i musei della capitale ucraina sono ricchi anche di opere d'arte italiane l'Ucraina è anche la patria di tante ballerine e ballerine che hanno ballato nelle gare più prestigiose e nei teatri più prestigiosi come il primo ballerino dell'opera ucraina Potionkim che ha abbandonato il mondo della danza per arruolarsi e per difendere il proprio paese attaccato dalla Russia il ministro Franceschini ascolti il Parlamento e porti queste posizioni al tavolo del Consiglio d'Europa con i ministri della cultura il prossimo primo aprile con uno slogan che vi piace spesso citare se non ora quando se non ora che c'è la presidenza italiana quando se non ora quando i caschi blu dell'ONU per la cultura a meno che non fosse solo propaganda colleghi Putin ha sottovalutato il carattere e il patriottismo del popolo d'Ucraina che con il fucile in mano combatte strada per strada fabbricando Molotov e imbracciando le armi nel nome della propria nazione ha sottovalutato Zelensky eroe per caso ha sottovalutato la risposta degli ungheresi e dei polacchi e delle repubbliche baltiche lo diciamo senza mezzi termini vogliamo la pace ma va restabilita la completa integrità dello Stato ucraino vedete la lotta di Budapest del 56 ritorna per sillogismo con l'eroismo dei patrioti ucraini nel 22 ragazzi e ragazze donne e uomini che lottano per la difesa della propria terra e della propria casa colleghi ripetiamolo insieme avanti i ragazzi di Kiev avanti i ragazzi di Leopoli avanti i ragazzi di Mariupol avanti i ragazzi di Odessa avanti i ragazzi ucraini avanti figli d'Europa grazie la ringrazio onorevole avanti i ragazzi